La fortezza medicea di Arezzo ha fatto da cornice all'attesissimo Italia Mundial di e con Federico Buffa. Il giornalista e storyteller, noto volto di Sky, che ha raccontato l'indimenticabile vittoria della Nazionale Azzurra ai mondiali di calcio del 1982. I gol di Paolo Rossi, l'urlo di Marco Tardelli, le parate di Dino Zoff, la pipa di Enzo Berzot, le braccia al cielo dell'allora presidente della Repubblica, Sandro Pertini, sono tornate a rivivere nel racconto emozionante di Federico Buffa, accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidie, diretto da Marco Caronna. Un appuntamento organizzato dal nuovo Teatro Verdi di Montecatini Terme, in collaborazione con la Fondazione Guido d'Arezzo, per la rassegna Estate in Fortezza 2022. Lo spettatore è stato letteralmente accompagnato dietro le quinte dei mondiali di Spagna e sentirsi di nuovo campioni del mondo, perché quando lo si diventa una volta, lo si resta per sempre.